Dove essere la partita della svolta, dove essere la partita che ci dava delle indicazioni importanti dal punto di vista della personalità, dove essere la partita che ci dava una svolta nell'ottica anche classifica di tre punti, perché comunque la prossima settimana siamo fermi, invece è stato tutto il contrario. Sono molto arrabbiato per quello che abbiamo fatto oggi in campo, perché siamo stati messi sotto da una squadra che in quanto a determinazione, voglia e capacità di interpretare la partita, sono stati nettamente superiori, abbiamo tirato credo due volte in Porto, penso sia in assoluto, in queste sette partite in cui ci sono, sicuramente la volta in cui abbiamo creato meno, ma non ci sono stati neanche i presupposti per creare qualcosa di interessante. Bravo il Teramo, grossi demeriti nostri, grossi demeriti miei, forse che non sono riuscito a stimolare, a dovere, a far capire ai ragazzi, non lo so che questa era una partita importante, quando si sbaglia io sono il primo a fare degli errori. E' certo che ne avevamo parlato in questi due giorni di ritiro, pensavo che i ragazzi avessero capito qual era lo spirito da mettere in campo, soprattutto contro una squadra come il Teramo che ha degli obiettivi di salvezza e quindi hanno degli stimoli importanti a affrontare queste partite. Il problema che mi preoccupa di più è che se andiamo a guardare la classifica, con tutte queste squadre che lottano per salvarsi abbiamo fatto pochissimi punti. E io mi chiedo il perché, nel senso che giocare contro Vicenza e col Padua i stimoli li trovi da solo. Giocare con queste squadre tu devi avere i stimoli doppi perché loro ce li hanno per degli obiettivi importanti. Il problema è che io non riesco a capacitarmi come noi non riusciamo a trovare degli stimoli contro queste squadre.